Lilo e Stitch 626, un alieno che distrugge tutto quello che incontra, scappa da una prigione extraterrestre a bordo di un'astronave. Il capo degli extraterrestri, Donna Consiglio, si rivolge a Jumba, lo scienziato che ha creato 626. Deve partire subito insieme a Plicli e catturare il fuggitivo. In quel momento Lilo, una simpatica bambina, sta facendo il bagno nel mare. Non sa che 626 atterrerà proprio da quelle parti. Lilo vive con la sorella maggiore, Nani. Ora corre a casa. Sta per arrivare Cobra, l'assistente sociale che si occupa della bambina. La casa è tutta in disordine. Cobra non è per niente contento e pensa che forse Nani non è capace di badare bene a Lilo. Ma Lilo sta benissimo con la sorella. Giocano insieme, ridono, proprio mentre 626 arriva sull'isola. Appena atterrato, 626 è illuminato da due potenti fari. Un camion lo investe. Ferito l'alieno, viene portato in una clinica per animali. È lì che Lilo adotta 626 e lo chiama Stitch. Lei lo crede un cane, ma non gli altri animali che fuggono terrorizzati. Presto però Nani capisce che Stitch sa solo combinare guai e propone di riportarlo alla clinica. Ma Lilo lo difende. Adesso fa parte della famiglia, dice alla sorella. Anche Jumba e Plikli sono arrivati sull'isola. Per catturare Stitch lo tirano sott'acqua. Lui allora si aggrappa a Lilo. Nani si immerge e riesce a liberare la sorellina. Ma dalla riva Cobra ha visto tutto. Stitch è molto triste perché sa di aver messo Lilo in pericolo. La bambina poteva farsi davvero male. Per questo decide di andarsene. Anche Lilo è triste. Chissà dov'è Stitch. Nani la consola. Hai fatto del tuo meglio, le dice. Ma i guai non sono finiti. Infatti Cobra ormai ha deciso di portare Lilo lontano da Nani. Ma non si accorge che mentre parla con la ragazza la bambina riesce a scappare dalla sua auto. Presto Lilo ritrova Stitch e scopre la verità. Lui è un extraterrestre e altri alieni stanno cercando di imprigionarlo. In quel momento dai cespugli esce il capitano Gantu, un altro inviato di Donna Consiglio, e li cattura tutti e due. Lilo è prigioniera di Gantu. Stitch invece è riuscito a scappare. Ma ora vuole occuparsi della sua amica e promette a Nani che l'aiuterà. Stitch vola a salvare Lilo e quando l'ha liberata la prende in braccio per riportarla a casa. Stitch è stato davvero coraggioso. Ora tutti hanno capito che lui, Lilo e Nani formano una splendida famiglia. Fine